Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sulla Grania Sky 2 Allora, ho messo giù i fiorellini, quelli del sole e quelli della luna, della notte Scusate, ho un po' di bordello Allora, che cosa voglio fare adesso invece? Voglio finire di fare una cosa Dobbiamo produrre altre tre di mana pool Quindi andiamo a prendere la roccia qua Ce ne servono quindi quindici Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici Ok, poi andiamo nella crafting Prendiamo queste quindici e facciamo così Questi via Così E ce ne prendiamo Che pirla Questo via E anche questo qua via E noi facciamo tre Poi ci serve questo Che è il mana distributor Quindi ce ne servono altri due di questi Uno, due Così No, due Tre, quattro, cinque, sei Cazzo dico due Si fa così E così Perché ci serve? Perché bisogna fare una cosa qua Questo si mette qua dentro Questo si mette qua dentro Così Questi si mettono Ah no, questi dobbiamo potenziarli Quindi Uno Due E tre E tre Guardate quanto mana ha prodotto Questi si mettono così Uno Due E tre E con la wand Si linka questo A questo Vedete Che sta riempiendo Tutte Le mana Le mana pull Guardate E' figo o no Questi qua Non so che cosa sono linkati Vediamo un po' Ah quello lì sopra Perfetto Va benissimo Va benissimo Così Questi qua Boh Non mi interessa che cosa si linkano L'importante è che sono linkati E Che producono mana Poi dopo Questi qua spariranno E quando spariranno Boh Amen Non ci interessa Abbiamo il resto Ok Abbiamo prodotto Abbiamo Cioè abbiamo prodotto Abbiamo la possibilità Guardate che figo che è Mi piace veramente Un sacco E Anche La piantagione qua Dei colori Guardate che bella che è Bello Bello E Produce un sacco di mana Infatti Se andiamo a vedere Questo ne ha Un botto E Se io lo lascerò andare Poi dopo Continuerà A produrre mana Va eh Funziona 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 l'asta grande Possiamo continuare A questo punto A fare i nostri lingotti Di mana Perché ne abbiamo Un po' di mana Quindi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove E dieci Guardate quanto ne produce Quanto ce ne Ma fantastica sta cosa Allora Quindi questa Andiamo a vedere Che cosa ci diceva di fare Ehm Ah ecco Farei Farei questi qua Le rune Abbiamo detto Runa dell'acqua E rune del fuoco Quindi Andiamo qui E facciamo rune Rune Per fare quella dell'acqua Ci servono Tre mana Una canna da pesca Zucchero E bone meal Allora Quindi Sugar Ce l'abbiamo? Sugar No lo prendiamo Bone meal Invece si Bone meal Si Ok Quindi prendiamo Allora mettiamo via un po' di roba Perché è veramente qua Se no C'è il delirio Quello è sempre della botagna Interessante Poi riuscirò a capire A cosa serve Anche questa qua Dovrò capire a cosa serve E Cibo Uno Due Panini ne abbiamo ancora Ok Mettiamo a cuocere Questi 16 panini Ah C'ho anche i cosciotti Vero Non lo spiegare Come sia possibile Che è un toast C'è un Cosa qua Faccia più di un cosciotto Di pecora Però Sono dettagli Intanto Ne prendiamo Quattro Abbiamo detto Che ci serve Quindi Guardate che bello Di notte Va che figata Bello 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 Mi piace Allora Dicevamo Ci serve Ah Lo zucchero di canna Lo zucchero di canna E lo zucchero di canna Eccola qua Quindi Una E due Ok La canna da pesca Però dobbiamo fare Quindi Fischer Fischer Eccola qua Tac E tac Allora Dicevamo Uno di questi Uno di questi Tre di questi E Basta Ah E lo zucchero di canna Quindi Uno di canna E ci dà La runa Dell'acqua Allora Ci prende Un secchio Un secchio d'acqua Si mette così Ci serve Il seme Ok Maiale dove? Qua Vieni qua Vieni bello Vieni Dai su Vieni cucciolo Sei morto Allora Così L'ho messo Non l'ho messo Il secchio d'acqua Ok Uno Due Tre Questa Questa No No Allora non ho capito Scusate Cos'è che dovevo fare? Ah Le rune Le rune Ah no Aspetta Cos'è sto coso? Runic altar Ah Ok No no Manca qualcosa Allora Dovevo fare questo coso qua Mana pearl Ah Ok 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 Ci sono Ci sono Ci sono Ho sbagliato Allora Mi ero perso Usiamo Il diamante Allora Questa roba si può Intanto riprendere Ok Quindi posso Fare Ah Ecco vedi Tac E devo fargli Il runic Perfetto Non mi ha detto che si fa Questo che cazzo Scusami Ah ok Quindi ci servono cinque di questi Cinque Così Così Ehm 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 Bam E bam Ok Runic altar Perfetto Lo mettiamo Qua di fianco E come funziona sto runic altar? No mi sa che è mettendogli Vediamo No Due Tre Ok Uno di questi Ah Guardate che figata La canna da pesca E il buon mille Guardate che storia Va che figo Quella roba che flutto ha E poi? E poi Servirà il seme? Come al solito? No Ma come lo riprendo io adesso Quello? Io rivoglio il seme Dai E io rivoglio il seme Allora Primo Non mi piace messo come l'avevo messo Quindi va bene così Ok Poi gli costruirò un qualcosa intorno Perché è più figo Allora Abbiamo detto Uno Due Tre Poi Questa Poi Il buon mille E la canna da zucchero E la canna da pesca Canna da pesca E il buon mille È giusto? Sì E ora Bisogna lasciarlo lì O c'è bisogno del tipo del mana? C'è bisogno del mana? C'è bisogno del mana Quindi come faccio a farlo? Non l'ho capita sta cosa Allora Riprendiamo Vediamo Adesso andiamo di capire Ci riprendiamo tutto Perché allora a sto punto Mi viene da pensare che Mi porto via questo Forse va messo qua E si riempie di mana Uno Due Tre Quattro Cinque E sei Non Allora, 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 allora Aspettate un momento, eh Perché forse ci siamo Devo fare una cosa Allora, devo fare un altro spread 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 Questo qua Così, bam Fatto Lo mettiamo Facciamo così, svuotiamo questo Ok, svuotato Tiriamo via questo qua, gli mettiamo lo spread Qui E mettiamo invece l'altare Qui E gli linkiamo, vediamo se è abbastanza Questo con L'altare E va Perfetto, l'ha linkato Mi manda corrente Non so se però la sta prendendo Non so se la sta prendendo Comunque, proviamo a fare Quello che dicevamo prima Vediamo Allora, questo, questo Il bone mill Perché ho tirato via il brown L'ho applicato male Allora, ben detto Uno Due Tre Uno Due Tre Poi si fa Shift Tasto destro Cosa è successo? Eh, ma quindi? Ok, la recipe è quella dell'acqua Grazie Mi sa che non funziona Allora, sta andando Adesso vediamo Cioè, almeno Io spero stia andando Cioè, non riesco a capire se Non so se sta aspettando Che gli arriva abbastanza mana Ma non capisco neanche se il mana In realtà gli sta arrivando Perché Così è linkato Quindi in teoria Dovrebbe arrivare il mana Ok, provo a spostargli questo Invece qua E vediamo un po' come va Ok, adesso Lì gli sta trasferendo il mana Quindi in teoria Appena si riempie La vedi? Così mi dice che è linkato Però se clicco su questo Forse è troppo lontano Allora Orca miseria Devo metterlo più vicino Potrei metterlo qua Adesso lo lasciamo andare Vediamo se si forma Ah, ok Guardate intorno adesso al coso Se guardate intorno alla figura della runa Vedete uno spicchiettino azzurro? Quello probabilmente è il mana Che gli serve Quando è pieno Si forma Quindi per il momento Lo lasciamo così Per capire Sto coso invece Non serve un cazzo Quindi lo togliamo E vada via il culo Vi rimettiamo la sua bella pull Ok Allora vediamo qua Come siamo messi Con la wand in mano Ok Ok ragazzi Ci siamo quasi Ha quasi fatto Dopo ho già preparato i materiali Per fare quello del fuoco Però poi lo sposterò Perché così è veramente Troppo troppo lento Aspettiamo un attimino Dai 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 che ci siamo Vento Ok Eccolo lì Cos'è quella roba lì? Fulmini Oh mio brutti fulmine Dai 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 non so se mi sta prendendo per il culo non va non sta andando devo fare shift tasto destro no, non succede nulla vabbè, lasciamolo andare intanto linkiamo questo, così, lo rimettiamo qua quello V io l'altare lo farei tipo... non lo so, adesso vediamo staccherei questo e lo metterai lì ok, si mancava un passaggio allora prendiamo la Living Rock la si prende la si butta no nooo ho sbagliato la si butta lì in mezzo e poi si fa shift tasto destro e eccola qua fatta la runa la voglia di aspettare run of water fatta ora stacchiamo questo lo mettiamo tipo qui perchè ora voglio provare un'altra cosa questo così questo questo lo mettiamo così gli diciamo così e così ed è linkato giusto? perfetto perfetto allora buttiamo dentro la Fire la Fire si fa abbiamo detto 3 di mana 1 gun power e 1 allora quindi abbiamo qua mana e gun power allora 1 2 3 1 1 e 1 shift tasto destro e carica vedete che è un po' più veloce in questo modo guardate che roba molto molto più veloci di prima e qui addirittura è sempre pieno praticamente no qui sta scaricando no sempre pieno ottimo 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 quindi ci mancava questa roba qua cos'è che ci facciamo però intanto ah tipo anello equip e ho capito cosa ci da mana lens efficient water element fiorellini ok ok si può fare un sacco di roba con questi cosi ah è quasi pronto guardate che roba è già pronto in confronto a prima che ci ho messo 30 anni si prende una pietruccia gliela buttiamo so e la buttiamo sopra shift tasto destro e bam e ci ha dato anche questo perfetto completiamola questo vedete che piano piano si impara ok tutto quanto lo sto imparando insieme a voi perché ok ci da l'altra runoff spring ok figo 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 ah e allora con questo altaruccio che poi magari modifico in qualche modo lo faccio un po' più figo o comunque vediamo potrei anche lasciarlo così direi che per oggi è tutto grazie a tutti ciao ciao